Quali sono i nuovi target pressori emersi dalle recenti linee guida europee? Quanti pazienti ai problemi di ipertensione associano anche l'ipercolesterolemia? Le nuove associazioni precostituite di più principi attivi, le cosiddette single pill combination, possono migliorare la gestione di questi pazienti? Ne abbiamo parlato con il professor Guido Grassi, presidente della Società Italiana dell'ipertensione arteriosa che abbiamo incontrato a Napoli nel corso di un meeting fra alcuni clinici esperti incentrato proprio su questi temi. Professor Grassi, incominciamo dai numeri. Quali sono i nuovi target pressori emersi dalle recenti linee guida europee? A che cosa si dovrebbe tendere a livello di pressione sistolica e diastolica? Dunque, c'è da fare una premessa che ci sono linee guida europee, come ha accennato lei, e poi ci sono le linee guida americane. Perché faccio questa premessa? Perché le indicazioni non sono univoche su questo aspetto. Le linee guida americane tendono a suggerire dei valori target molto più bassi, addirittura inferiore a 130-80. I valori delle linee guida europee si assestano a livelli un po' più alti. Però il messaggio che emerge è quello comunque di avere una pressione ben controllata, non solo la pressione clinica, ma la pressione anche delle 24 ore, con valori pressori che stiano ben al di sotto dei 140-90 mmHg. Questo nell'iperteso è non complicato. Ci sono alcuni sottogruppi di pazienti ipertesi, per esempio i pazienti nefropatici o i pazienti diabetici, dove la raccomandazione è quella di raggiungere, se possibile, livelli particolarmente più bassi, cioè avvicinandosi ai quei famosi 130-80 mmHg di cui si parlava delle linee guida americane. Quindi un messaggio di un controllo pressorio che si ha nell'arco delle 24 ore e che sia efficace in termini di quantità di riduzione. Ecco, già raggiungere questi livelli pressori non è facile, non è assolutamente facile. Poi la situazione si complica, come lei diceva appunto nel corso della riunione, perché una parte significativa di questi pazienti ha anche altri problemi, ad esempio quelli di dislepidemie. Ecco, rimanendo sul discorso numerico, sulla base dei dati disponibili, quanti sono percentualmente i pazienti ipertesi che hanno anche dei valori troppo elevati di colesterolo? Qual è la situazione in Italia? Beh, è una fascia consistente di pazienti. Io mi riferisco soprattutto ai dati che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi anni da uno studio nostro, che è lo studio Pamela, che è uno studio del controllo della pressione nell'area Monza, Brianza e Milano. È quello che emerge che circa il 40-45% dei pazienti ipertesi ha problemi di dismetabolismo. Dismetabolismo vuol dire colesterolo elevato, vuol dire intolleranza glucidica, vuol dire in condizioni complessive un'alterazione metabolica importante. Le alterazioni dell'LDL con i nuovi target che sono state indicate dalle linee guida saranno molto più consistenti rispetto a questo gruppo di pazienti. Quindi io mi aspetto che addirittura il 45 se non il 50% dei pazienti ipertesi abbia questa complicanza metabolica. Siete, professore, accanto le modificazioni dello stile di vita che sarebbero obbligatorie per tutti, che però poi sono anche alla fine le cose un po' più difficili da ottenere. A livello di farmaci, cosa dovrebbero fare questi pazienti? Prendere i due o tre farmaci per l'ipertensione, prendere anche quelli per il colesterolo? Qual è la situazione e che problemi comporta l'utilizzo di così tanti farmaci in una persona spesso un po' anziana? Sì, lei ha accennato a un aspetto importante, cioè le modifiche dello stile di vita, che è una misura non farmacologica che comprende per esempio un controllo della dieta, che comprende per esempio l'attività fisica, che comprende la sospensione del fumo, eccetera, la riduzione del peso corporeo. Tutte queste misure sono misure di difficile attuazione perché ovviamente l'aderenza del paziente è bassa e quindi si richiedono interventi farmacologici. Treventi farmacologici che hanno anche questi un problema abbastanza serio, cioè quella dell'aderenza del paziente alla terapia. Tanto maggiore il numero di compresse assunte dal paziente, tanto più bassa è l'aderenza terapeutica e tenendo presente che sia il trattamento dell'ipercolesterolemia che quello dell'ipertensione arteriosa sono trattamenti che non sono spot ma devono continuare tutta la vita e quindi avere una bassa aderenza vuol dire avere dei valori pressori o in questo caso di colesterolo o in genere di alterazioni metaboliche non controllate. Siete, di recente proprio per andare incontro a questi problemi che sono diffusi in tutto il mondo, non solo in Italia, sono state messe in commercio nel nostro paese associazioni cosiddette single pill combination, quindi un'associazione di più farmaci in una singola compressa. Ecco, qual è il suo giudizio, il giudizio del clinico, il giudizio appunto del presidente di un'importante società scientifica nel confronto di questo tipo di farmaci? servono, sono solo un fatto di praticità che comunque è importante o c'è anche qualche cosa di più? Beh, sicuramente se prendiamo in considerazione che le linee guida europee raccomandano di partire con una terapia di associazione proprio per far fronte a questo rischio cardiovascolare che nel paziente iperteso trattato ma non controllato rimane elevato, è chiaro che costituiscono un importante approccio del paziente stesso e del medico alla terapia, tenendo presente che in questo modo si dovrebbe ottenere una maggiore adderenza del paziente alla terapia stessa, quindi il paziente assume regolarmente la terapia proprio perché il numero di compresse che assume si è ridotto in maniera drastica e questo ha una finalità chiara, quella di controllare meglio i fattori di rischio e quindi migliorare il profilo di rischio stesso del paziente trattato.